Il comune di Calatabbiano si attrezza per accogliere visitatori e turisti che nel periodo estivo affollano le spiagge della costa Ionica. Così è stato affidato in concessione il servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento di uno spazio nella regia Trazzera numero 644 Catania Messina, nel tratto del territorio comunale di Calatabbiano. Su quattro istanze pervenute presso gli uffici, ad avere i requisiti è stata quella della Ecotourist, società cooperativa sociale di Catania. La concessione durerà fino al 21 settembre prossimo e prevede, oltre al servizio di parcheggio, la manutenzione ordinaria, la cura del verde, l'installazione di passerelle per disabili, la collocazione di servizi igienici come bagni e docce. Le tariffe sono state stabilite in base ai giorni e ai orari, e tutto al fine di garantire e contribuire all'ordine pubblico e alla sicurezza, oltre che per offrire la regolamentare sosta dei veicoli. Il capitolato, che disciplina le modalità della concessione, obbliga di intensificare gli orari di apertura del parcheggio nei giorni di ferragosto. Il cannone di concessione è costituito dalla quota parte della tariffa del biglietto con un importo minimo di 40.000 euro.